Buongiorno a tutti ragazzi e ragazze, come state? Allora, sono circa un mese, 30 giorni che non mi faccio né vedere né sentire, né qui su Facebook, né qui su YouTube, che appunto né su Instagram, ma è stato un periodo della mia vita in cui non ho voluto fare niente. E detto questo, oggi ho deciso appunto di vloggare, ma vloggerò tutti e cinque giorni appunto a seguire, perché andrò alle isole Olia con le mie amiche, quindi ho appunto deciso di portarvi con me e soprattutto, diciamo anche, magari non mi interesserà molto, però mi piace proprio l'idea di raccogliere dei video, delle clip, come se fosse a mo' di diario, così che un giorno, un po' magari tra dieci anni, se ancora YouTube esisterà, magari ci sono appunto questi video, queste clip, e ne sono super super contenta. Comunque, questa è la mia valigia, ancora devo finire di ultimare appunto le ultime cose, ultimare le ultime cose, e dopodiché vado a prendere le mie amiche perché andremo in macchina, noi saremo appunto a Milazzo, e oggi giornata totalmente dedicata appunto al relax di staremo a Milazzo, e poi domani andremo a due delle, visiteremo due delle isole Olia. Comunque non vi spoilerò niente, ci aggiorniamo. Raga, ho preso le raga! Stiamo aspettando l'ultima raga, che non arriva, e poi si parte. E' arrivata, contro luce, è arrivata. Si parte raga, si va. Siamo appena, sì, allora devi cliccare. Raga, siamo arrivati, non ovviamente a destinazione, ma siamo praticamente in un autogrill per prendere un po', insomma, un caffè, fare la pepita, se lo sei qua. E basta. Buono! Io pure lo vorrei, ma... Le girl! Ok raga, siamo arrivati a Milazzo, e ora stiamo andando in hotel, in B&B. Ci gambiamo, e poi andiamo al mare. Allora... Sì! Sì! Adesso? Sì! Adesso? Sì! Io devo fare qualcosa, se la richiamavo io... È giù che si fa a riscolta... Non va come se Paolo sempre così, la sua risulta... Ascolta! Perché, perché... Perché se tu non gli atentano, lo leggo... Ma, quella è più grande la camera, ma tu non lo puoi sentire. Sì, ci aggiustiamo le... Che vuoi fare? Questi sono le altre ragazze, lei è la inquilina di Federica, presentazioni e adesso destinazione mare. Ragazzi siamo arrivati a mare, andiamo. E' uno spettacolo. E' molto molto bello, mi piace molto. Per Youtube. Raga, io non vi ho aggiornati, siamo arrivati, ci siamo fatti le docce e adesso siamo pronti per farci di nuovo in giro. E' una frenesia, è una frenesia, ma si è in vacanza, quindi quando si è in vacanza non si sa niente, è tutto un po' così. Comunque, outfit della serata. Ci siamo fermati in un bar, in un bar, in un restaurante. Prima di venire in questo locale siamo andati in un altro locale, che tra l'altro era successo, che hanno ingegnato la cucina. Sì, ecco, perché siamo arrivati noi una settimana prima, hanno ingegnato tutto. Esatto. E' ovviamente ci è toccato di nuovo camminare, perché ci sono 30. Ma ritornare indietro. Ritornare indietro, quindi avevamo fatto quasi 70 km. Comunque, è l'importante, tutto bene quel che finisce bene. Abbiamo ordinato. Abbiamo ordinato. Speriamo di mangiare. Bene. Perché se non gioca bene va a fare danno di mangiare un po'. E basta. Attendiamo. E beviamo acqua. E beviamo acqua, perché c'è troppo caldo, ragazzi. Troppo caldo. Ma anche voi penso che potete confermare quello. Lei se la ride? Perché ridi? Sono buffa. Le macchiette. Le macchiette. Le macchiette. Ci sono le girl. Ma se vedere il cameriere di noi... Sì, sì, sì. Noi disturbiamo comunque. Disturbiamo comunque. È arrivato comunque. Buon appetito. Addenta. Fai taste test. Taste test. Taste test. Stress test. Com'è? Buono. Ci piace. E noi aspettiamo. Sta morando. Da, 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 da. Farvi.